Ben ritrovati, siamo in compagnia dell'Avvocato Carlo Bortolotti di Milano, buonasera. Buonasera, buonasera a tutti, buonasera a Pasini. Questa sera vogliamo parlare di una tematica che in questo periodo, già molto attuale nel lockdown, ma anche adesso nella fase 2 è particolarmente sentita per molti cittadini per ovvi motivi dettati dal cosiddetto distanziamento sociale, ossia l'e-commerce o shopping online, una pratica sempre più utilizzata per fare acquisti in sicurezza, a distanza e potendo reperire anche dei beni che non abbiamo a disposizione facilmente. Ecco, io vorrei sapere da lei, Avvocato, che è un esperto, quali sono le garanzie minime che dobbiamo avere quando consultiamo un sito e abbiamo la necessità o la volontà di comprare qualcosa online? Sì, dice bene, ovviamente per le vicende a tutti note, questo è un fenomeno che ha vissuto negli ultimi tempi uno sviluppo assolutamente vertiginoso, leggiamo di percentuali altissime di crescita di queste transazioni e occorre avere le idee piuttosto chiare, il più possibile chiare su quelli che sono i diritti del consumatore dietro alla tastiera, diciamo così, perché l'ordinamento italiano dedica una sezione del codice del consumo proprio a questo settore commerciale che sarà in espansione continua. Quando noi accediamo a un sito perché ce l'hanno segnalato, perché lo abbiamo trovato attraverso una ricerca rispetto al prodotto che intendiamo comprare, qual è la prima cosa a cui dobbiamo prestare attenzione? Qual è una garanzia d'ingresso rispetto a questa offerta commerciale? Dobbiamo sapere quali sono i riferimenti principali che possiamo andare a controllare poi nell'ambito della geografia del sito stesso? Senza dubbio la presentazione del sito, l'accuratezza, la minuziosità in relazione a quelli che sono i prodotti che vengono offerti sono caratteristiche fondamentali. Io devo trovarmi, usiamo questo paragone che può essere praticamente utile, devo trovarmi di fronte allo schermo come se fossi in un vero e proprio negozio dove mi vengono mostrati dei prodotti, vengo aiutato a capire se sono esattamente conformi e adatti a quella che è la mia esigenza e devo poter reperire ogni tipo di informazione utile circa le caratteristiche essenziali del prodotto, le caratteristiche tecniche, le performance, se si tratta di accessori, comunque di una certa complessità, tutte le informazioni necessarie e più precise possibili sul prezzo. L'importante è che il prezzo sia scorporato dalle tasse, dalle varie spese di spedizione, quindi devo capire qual è il prezzo unitario del prodotto per rapportarlo eventualmente a concorrenti e ad acquisti fatti con modalità diversa. Poi altra attenzione che dobbiamo porre è sicuramente quella di avere ben chiaro con chi stiamo concludendo un contratto, cioè il sito deve fare capo in maniera abbastanza chiara, in una sezione del sito facilmente fruibile, possibilmente quella stessa dove sto scegliendo il prodotto, deve essere chiaro qual è il soggetto che è la mia controparte contrattuale, ossia da chi sto acquistando. Quindi ci devono essere notizie fondamentali come il nome per esteso della società, la sede legale, la partita IVA, un numero di telefono a cui fare sempre riferimento, ancorché sia un numero verde, comunque un numero a cui potersi rivolgere, degli indirizzi email chiari che possono fungere da servizio alla clientela e il top della gamma sarebbe addirittura intravedere una PEC nell'alto del sito, ma anche se mi rendo conto che pochi in questo momento la mostrano. Però in definitiva non deve essere lacunosa la presentazione del prodotto e io non devo mantenere dei dubbi con riferimento al soggetto con cui sto concludendo un contratto. Quindi non ci facciamo ingannare dalla bellezza delle immagini che ci vengono proposte, dalla descrizione enfatica del prodotto, ma devo avere nozione precisa di quello che sto comprando per non avere sorprese. Quindi diciamo che la lacunosità delle informazioni ci deve fare. Non è un bel biglietto da visita. Se si tratta di siti esteri come spesso accade con una provenienza sia legale sia logistica all'estero, quali attenzioni dobbiamo prestare a questo tipo di situazioni? Ancora più puntuali le nostre attenzioni e essendo soggetti che probabilmente fanno capo anche a un diritto differente, noi dobbiamo assolutamente avere chiaro con chi stiamo concludendo il contratto. Quindi a maggior ragione se il sito è un sito estero, dobbiamo avere quelle informazioni essenziali che ci permettono comunque di avere un rapporto con la controparte, anche epistolare, tramite email, ma le informazioni che ci possono essere utili, anzi essenziali per un eventuale futuro contatto, devono essere precise, ci deve essere una modalità di comunicazione e di presa di contatto con la società che gestisce il sito, che è quella con cui noi concluiamo il contratto, che deve essere lineare. Se è lacunosa, se a maggior ragione il sito fa capo anche a soggetti esteri, dobbiamo essere molto molto diffidenti. Se i prezzi sono troppo bassi, questo ci deve fare insospettire, ci deve fare qualche considerazione sull'autenticità del prodotto, su alcune materie magari di natura fiscale rispetto all'importazione, c'è da fidarsi? Il prezzo in sé non è un elemento univoco che deve guidare la nostra valutazione, è chiaro che deve essere un elemento di peso, perché allorché ci troviamo di fronte a prezzi totalmente inverosimili, è chiaro che il campanello d'allarme deve essere forte. Se invece, penso a tanti siti di vendita di abbigliamento online, abbiamo la consapevolezza che si tratta soltanto di siti che soprattutto fanno capo a paesi dove la mano d'opera, dove le materie prime, ahimè, costano molto meno. Non per questo, diciamo che l'aspetto contrattuale e commerciale ci deve fare diffidare. Sono altre poi le valutazioni che ci possono portare a non concludere l'acquisto, però non è necessariamente detto che un prodotto che costi poco poi non arrivi o arrivi difettoso. E' chiaro che ci assumiamo un rischio spendendo poco, come dice anche il proverbio, però non è l'unica valutazione che conta. Allora, veniamo proprio alle garanzie di cui il cliente deve essere titolare e sulle quali non ci devono essere dubbi. In molti casi non sappiamo esattamente quali diritti abbiamo quando compriamo online. Ci vuole precisare meglio questo aspetto? Sì, direi che chi si accosta a una transazione online è bene che abbia presente almeno un paio di regole che lo garantiscono, perché poi il panorama è molto tecnico, come dicevo fa capo alla sezione del codice del consumo ad altre norme speciali e non è assolutamente il caso ovviamente di trattarla in questa sede. Però possiamo abbastanza facilmente tenere a mente due scenari. Il primo, proprio così di impatto immediato, è quello che chiunque acquista online ha sempre il diritto di ripensarci. La norma infatti ci dà la facoltà entro 14 giorni dalla ricezione della merce in caso di acquisto di un bene oppure dalla conclusione del contratto in caso di acquisto di servizi di tornare sui nostri passi, di cambiare idea senza dover dare neanche una spiegazione al venditore. Quindi semplicemente il bene che è arrivato al nostro domicilio non era come ce lo aspettavamo oppure abbiamo cambiato idea o è arrivato di un colore che sul video mi sembrava differente. Insomma, non sono soddisfatto, ho cambiato il mio intendimento, entro 14 giorni posso restituire la merce senza dover dare alcuna spiegazione. Tra l'altro questo deve avvenire anche a totali spese del venditore. Quindi io potrò utilizzare il medesimo strumento di trasporto per far tornare il collo, il bene e l'oggetto al venditore il quale dovrà riaccreditarmi l'importo che io ho speso con le stesse modalità con cui io l'ho pagato. Quindi se ho usato la carta di credito mandando indietro il prodotto con l'apposita comunicazione dovrò vedermi riaccreditati i soldi del bene e anche quelli che eventualmente mi tocca spendere per la spedizione. Questo è un aspetto normativo molto importante che a volte si ignora soprattutto per le metodologie piuttosto, chiamiamole così, furbe che alcuni siti attuano. utilizzano per rendere un procedimento semplicissimo il più complicato possibile al fine di far dire a uno che ha ricevuto una maglietta dove me la tengo così. Invece ricordiamoci questo entro 14 giorni da quando abbiamo ricevuto un oggetto abbiamo tutto il diritto di ripensarci e questo è un primo aspetto secondo me assolutamente fondamentale. L'altro versante non meno importante è quello del biennio di garanzia post vendita. In parole più semplici possibili dobbiamo ricordarci che come consumatori noi abbiamo due anni di garanzia sul bene acquistato che partano sempre dal momento in cui ci viene consegnato durante i quali se l'oggetto, lo strumento, il macchinario presenta delle problematiche dei vizi di costruzione quindi si rompe molto presto oppure non funziona a dovere non ha le performance che dovrebbe avere è in garanzia in parole molto semplici è in garanzia per 24 mesi e quindi il venditore ce lo dovrà o sistemare a sue spese oppure sostituire se nessuna di queste due operazioni è possibile si può chiedere la risoluzione del contratto e la restituzione dei soldi anche questa è una procedura come vede abbastanza semplice non c'è nulla di clamoroso anche perché basta una comunicazione con raccomandata per segnalare un difetto che va documentato ovviamente e tutto quanto dovrebbe avvenire in maniera abbastanza automatica il difetto deve essere un difetto di fabbricazione non deve essere dovuto a un nostro intervento un lavaggio sbagliato una stiratura ma testa che deriva da noi o dalla normale usura deve essere un problema che emerge col tempo non facciamoci ingannare dalla eventuale complessità della procedura che ci viene rappresentato oppure addirittura da tempistiche relative alla garanzia non veritiere alcuni sostengono che la garanzia sia di un anno di sei mesi la garanzia di legge è di due anni per i consumatori chiunque dica il contrario c'è una falsità avvocato ci ha dato un quadro piuttosto esaustivo piuttosto preciso su questi aspetti degli acquisti online dell'e-commerce quando uno dovesse trovarsi di fronte a dei problemi di questo tipo e o non ne ha la possibilità la voglia o pensa di non averne le competenze ecco l'intervento in questo caso di un avvocato come lei può assistere di fronte anche a contestazioni immediate e superficiali non parlo poi eventualmente di cause successive ed eventuali certo anzi sono anche sempre più frequenti questi interventi pensi che comunque le persone ormai su internet comprano di tutto quindi anche di un certo valore elettrodomestici e non dimentichiamo che le garanzie di cui ho parlato gli diritti di cui ho parlato valgono per tutti i beni quindi anche per i mobili della casa appunto gli elettrodomestici impianti i fai strumenti tecnologici di un certo livello quindi è frequente che le consegne non siano come uno se le aspetta i beni smettano di funzionare abbastanza in fretta e è altrettanto evidente che dall'altra parte non sempre c'è un venditore pronto a attuare i diritti del consumatore in maniera quantomeno sollecita magari con l'intermediazione di un avvocato magari diventano più svelti direi che gli esempi sono sempre più più frequenti raramente si finisce in giudizio per questioni di questo genere a meno che appunto non si tratti di beni di particolare valore per cui dall'altra parte c'è un rifiuto netto qualunque tipo di soluzione perché magari si accusa il cliente di aver danneggiato il bene allora lì è abbastanza facile finire in un contenzioso bene a questo punto non mi resta che consigliare relativamente all'argomento che stavamo trattando a coloro che avessero dei problemi se non ha un avvocato di fiducia di cercarlo anche attraverso magari canali come il nostro che possono dare qualche suggerimento rispetto alla credibilità dei professionisti la ringrazio avvocato Portolotti le do appuntamento a prossime occasioni in cui tratteremo argomenti di interesse quotidiano per i nostri utenti e per tutti i cittadini e quindi a presto io la ringrazio io spero che la prossima volta avranno riaperto i parrucchieri come ce lo do questo è un aspetto pare manchi poco resista con il suo bello a presto grazie grazie a tutti grazie a tutti